Ehi ragazzi! Scusate, ho fatto tardi! Goku! Giusto in tempo! Ho fatto tardi! Distrai Freezer affinché carichi il mio cerchio magico, così lo distruggerò una volta per tutte! Mettetela di urlare! State zette! Non lo so, Krillin! Goku, ascoltami bene! Goku! Mi sono allenato fino all'osso per questo! E' una tecnica davvero molto potente e se sono lo beccassi, potrai ucciderlo! E fammelo fare, ok? Ok! E ora va a distrarlo! Sì, sì, ho capito! Ehi, Freezer! Da un'occhiata a questi! Oh, wow, davvero notevole! Ma che ne dici di questi? Oh, sì! Sì! Oh, sì! 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 Il Tienzan è pronto ormai! E' ora di finirla una valda per tutte! Nooo! Is it recording? Kakarot! 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 Kakarot!